Il 28 novembre alle ore 20 riaprirà Villa Trentova, lo straordinario ristorante pizzeria e b&b sito in via Isca Longa ad Agropoli. La struttura è stata interessata da lavori di restyling in tutti i settori, a partire dalle cucine che sono state ampliate e attrezzate con nuovi strumenti per la ristorazione. Anche le sale e le camere sono state ristrutturate per dare maggiore comfort ai tanti clienti che aspettavano da mesi la riapertura di uno dei punti di riferimento culinari dell'intera regione. Villa Trentova, che ha sempre puntato sulla gentilezza, la simpatia, la qualità e la cordialità, è da sempre centro di aggregazione per grandi e piccini, con la sua ottima cucina, la pizzeria rinomata, i dolci fatti in casa e lo spazio verde all'aperto per i bambini che giocano felici nel parco giochi. Il nuovo look di Villa Trentova vi catturerà ancora una volta come ha già fatto negli anni e sicuro non finirà di stupirvi. Nell'occasione dell'inaugurazione, il 28 novembre, Cilento Channel realizzerà una puntata del programma Cilento Economia in diretta televisiva su Digitale Terrestre 636, in streaming e su Facebook sul sito internet per affrontare il tema il rilancio dell'economia nell'era del 4.0.